Con il numero 8, Christian, e qui mi parte l'applauso perché interpreta Genji Skin Sparrow! Genji è con voi, io sono il vento, indossa l'onore con tua corazza, brandisci il coraggio con tua lama. Genji è con mezzo giorno di fuoco, forza! E' da dire, Matrix, mi spiace sempre, sono un tipo riflessivo. La mia spada è pronta a scatenarsi. Yuuji no kei okuree! Vita e morte viaggiano sul filo della mia lama.